Amiche e amici ben trovati a questa nuova puntata dello Spirito degli alberi siamo tornati nella bottega di Filippo Fasser, liutaio benvenuti grazie insieme al nostro bio falegname Oliviero Tomasoni siamo tornati qui perché nella scorsa puntata vi abbiamo illustrato un po' grossolanamente tutte le magie che stanno intorno dentro e fuori agli strumenti musicali in particolare agli strumenti a corda come violini, viole e violoncelli abbiamo intuito da Filippo e grazie anche a Oliviero quanto sia importante l'utilizzo di una certa tipologia di alberi per realizzare i violini in questo caso però oggi vogliamo entrare un po' più nel dettaglio e scoprire questo meraviglioso mondo degli strumenti musicali e da dove partiamo? Partiamo da una tavola abbiamo visto nello scaffale tutte le tavole ordinate che sono appunto come abbiamo detto tagliate in questa maniera a spicchio a spicchio una tavola prima di essere utilizzata va segata a metà incollata come vediamo nella tavola che hai detto incollata così questa si vede la giuntura qui peraltro tu nomini ogni tavola ogni sezione con l'anno in cui tu hai acquistato in cui le ho comprate per ricordarti utilizzarlo a seconda delle necessità perché è un legno più vecchio ha qualità diverse il legno dopo un po' di anni perde le tensioni io credo che dopo 5-6 anni un legno più o meno ha perso tutte le tensioni io tendo ad utilizzare sempre legno che abbia almeno 10 anni qualcuno teorizza il fatto che serve legno molto 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 antico in realtà si è visto con questo studio che si chiama la dendrochronologia cioè che è uno studio che riesce ad adattare in base alle sequenze delle ampiezze il numero di vene che ci sono in una determinata porzione di che anno sia un legno e sembra che le tavole che utilizzava Stradivari ci fossero tavole molto giovani che li usava da 3-4 anni 2 anni diciamo che il motivo principale per cui un legno deve essere stagionato è che sia fermo dalla retensia asciutto principalmente ma ci mette poco ad asciugarsi e che non abbia tensioni forti io cerco di usare il legno che abbia 10 anni appunto questo vedete del 2004 e poi da questa da questa tavola da questa tavola viene segnato il contorno dello strumento utilizzando le fasce che si sono già realizzate e quindi viene segato lo strumento e sgrossato cioè rifinito nei contorni il primo lavoro che si fa è sgrossare le bombature dopo averle sgrossate si rifiniscono verranno poi scavate gli spessori e quindi tagliati fuori di risonanza per quanto riguarda la bete ecco questa è una forma diciamo dello strumento per capirci è questa parte esatto questa è una viola questo è un violino per quello che uno è più grande e uno è più piccolo sì questa è la parte su e dietro invece come funziona per il fondo per il fondo è la la tecnica è più o meno la stessa ma non si incolla però si possono usare o fondi in due pezzi come questo che vedete che è in due pezzi e qui si vedono che le parti sono speculari oppure come in questo caso qua il fondo è in un pezzo solo sempre tagliato in maniera radiale e si vede che è radiale perché la venatura corre lineare sull'ungolasse dello strumento è perché l'ammarezzatura amarezzatura è il nome di questo disegno muovi leggermente il fondo in giù così scusami perché reagisce a seconda di come prende la luce siccome è un andamento a curve della venatura e quindi viene tagliato tagliandolo dritto in alcuni punti riflette la luce in alcuni punti la assorbe e quindi ha questo disegno mentre invece per quanto riguarda le fasce le fasce anche sono tagliate sempre in maniera radiale perché come dicevamo la volta scorsa è più forte e le fasce sono molto sottile in un violino in una viola le fasce hanno spessori da un millimetro e due un millimetro e decimi quindi è molto poco in un violoncello e proporzionalmente è ancora più sottile misurano un millimetro e mezzo un millimetro e sei decimi quindi deve essere molto forte poi abbiamo il manico il manico come è realizzato il manico è sempre è un blocco di acero tagliato anche quello in maniera radiale dove viene disegnato il modello della testa che viene segato e poi piano 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 lavorato verrà poi scolpita la chioccia questo lo devo finire dello strumento che sto facendo questo è il riccio che poi tu nella scorsa puntata ci hai detto che c'è stato uno scultore che ha realizzato una testa particolare per un tuo violoncello questi due strumenti che ho fatto quindi il riccio in realtà è un ornamento o anche questo contribuisce al suono è un ornamento dopodiché il fatto di avere della massa qua ha un suo significato anche per il suono ma in realtà è un ornamento è un ornamento e poi ci sono i piroli e poi ci sono i piroli i piroli che sono quelli che servono semplicemente a dare tensione al corno questa è la tastiera che è di un legno diverso la tastiera è in ebano in questo caso i piroli e la cordiera sono in bosso mentre la tastiera e questa qua che si chiama mentoniera perché si capisce viene appoggiato il mento sono in ebano l'ebano è un legno molto duro e fa sì che si possa tastare la tastiera a lungo prima che si rovini in realtà anche l'ebano che è molto duro va continuamente manutenuto perché le corde provocano proprio dei solchi nella tastiera e poi abbiamo un ponticello poi lo vediamo in versione grande quindi è big per i violoncelli poi in realtà il ponticello è sempre in acero e anche questo è tagliato in maniera particolare oppure è sempre tagliato in maniera radiale ma è un particolare acero che non è marezzato come quello che vedevamo prima che lo renderebbe più debole è acero poi c'è un bottone un bottoncino per tenere la tastiera esatto la cordiera la cordiera si appesa la cordiera però c'è tutto un mondo anche dentro a parte che vedo questi filetti a cosa servono? queste righe chiamiamole così che noi vediamo nere in realtà sono tre strati di legno incollati insieme di essenze diverse a seconda dell'autore della scuola di riferimento tu cosa usi? utilizzo materiali diversi i materiali più utilizzati sono l'acero nelle scuole classiche usavano l'acero tinto e bianco oppure usavano il pioppo per il bianco il pero tinto nella scuola bresciana utilizzavano l'ebano e il bosto in questo caso questo è un violino su modello Guarneri del Gesù di Cremona in realtà ho rubato la scuola napoletana l'idea del filetto perché mi piace di più e il nero è in carta e il bianco è in pioppo per un motivo sciocco perché il legno e la carta incollate insieme reagiscono in maniera diversa quindi c'è un po' si forma una texture che mi piace ma praticamente non si nota non lo vede nessuno lo so solo io ma da un punto di vista della fisica acustica dell'acustica hanno una logica questi filetti? per l'acustica no sono di base decorativi ma come tutte le soluzioni estetiche in questo periodo storico hanno anche una funzione così come le F sono belle ma in realtà segnano la porzione da mettere in vibrazione della tavola e con quella piccola tacca che fa sì che le chiamino F determina la lunghezza della corda il filetto serve a legare la venatura in maniera che spacchi meno facilmente o che non spacchi poco spieghiamo meglio questa funzione delle F in base anche alla lunghezza delle corde l'avevi accennata già la volta la F in maniera molto pratica serve proprio a sapere dove mettere il ponticello cioè serve a sapere quanto è lunga la corda in base a quello poi si otterrà ci sono dei bei disegni chi va o andrà e ve lo raccomando perché è molto bello al museo stradivariano al museo del violino a Cremona c'è una collezione di tanti documenti attrezzi modelli della bottega di stradivari e c'è un bel disegno di una tavola di una viola alla gamba in cui lui posiziona sul disegno due tipi di F diverse a seconda di cosa voglia tra l'altro una è una F e l'altra invece una C rivaltata che veniva usata per vedere la gamba e quindi lui a seconda di come voleva fosse lo strumento finito decideva se utilizzare la posizione più alta o la posizione più bassa della corda dentro però esistono delle parti che non si vedono perché è difficilissimo ma poi è ancora una magia per noi capire come faccia a rimanere in piedi questo strumento non sappiamo è l'unico mi piace ripetere lo spesso scusami che è l'unico strumento l'unico attrezzo di lavoro degli uomini delle donne che ha una vita così lunga ah sì sicuramente ci sono tanti attrezzi che assomigliano a se stessi non so il martello il badile che sono uguali a quelle che usavano nel medioevo ma non sono quelli mentre il violino da quando è nato lo stesso strumento che è stato realizzato metà 500 metà 600 metà 700 viene utilizzato ancora oggi può essere utilizzato anche in maniera molto bella oggi senti ci sono delle parti interne vuoi illustrarci come come vengono posizionate e quali qualità hanno e quali funzionalità allora innanzitutto la prima cosa che si nota che è questa questa tavola di multistratto di faggio qua è quella che si chiama la forma e naturalmente verrà tolta non è all'interno dello strumento serve soltanto per posizionare questi sei blocchetti di legno intorno ai quali abbiamo incollato le fasce questi sei pezzetti di legno sono in salice in questo caso utilizzo il salice per la costruzione interna e questi sottili listarelli si chiamano controfasce perché sono incollate sulle fasce e servono ad aumentare la superficie di incollaggio in maniera che sia più solida e sono delle piccole striscette di salice appunto piegate nella forma giusta che servono appunto ad allargare la superficie di incollaggio questa diciamo fa parte della struttura altri due elementi che sono all'interno dello strumento che non si vedono sono la catena e l'anima la catena e l'anima sono frutto di un'evoluzione dello strumento in quanto all'inizio all'origine di questi strumenti a corda non esistevano oppure venivano cioè la catena che è una è una sticella di abete che verrà incollata all'interno della tavola naturalmente quando sarà scavata dalla parte delle note basse veniva scavata direttamente nella nella abete in alcuni strumenti era scavata in maniera centrale e poi è stata spostata piano piano poi hanno capito che era meglio incollarla ma cosa serve? esatto serve a due funzioni principali una è quella che quando il ponticello che è posizionato qua mette in vibrazione la tavola la catena immediatamente mette in vibrazione e tutta la tavola trasmette trasmette a tutta la tavola la vibrazione dal punto in cui il ponticello la sollecita e l'altro è che adesso qua in maniera esagerata questo è piatto invece sarà curvo e ho esagerato questa è solo dimostrativa la catena viene incollata in una tavoletta che ha questo disegno dopo di che la si sagoma una volta che sarà incollata comunque verrà incollata anche con questa con una leggera tensione non questa che risponda alla forza del ponticello il ponticello spinge e la tavola leggermente reagisce a questa spinta quindi fa questo il ponticello spinge la catena che è una specie di molla reagisce a questa spinta spingendo e contemporaneamente trasmette la vibrazione a tutta la tavola e poi c'è l'anima e poi c'è l'anima e ci piace molto questa a tutti piace l'anima a tutti piace l'anima l'anima è una che conta tantissimo della magia dell'uomo di raccontarsi le cose è un'evoluzione perché avevano capito subito per come funziona lo strumento ad arco che è diverso da lo strumento a pizzico dove normalmente il fondo specchia il suono quindi c'è una la corda viene sollecitata da un pizzico e la cassa acustica fa in modo che il fondo appunto perché è rigido le chitarre utilizzano legni molto duri come il morano il palissandro specchi il suono invece la tavola e il fondo vibrano tutte e due il fatto che vibrino in maniera slegata fa sì che le due vibrazioni vadano in conflitto si smorzino per cui avevano capito subito che la tavola e il fondo avrebbero dovuto vibrare insieme per fare questo anche lì c'è un'evoluzione sono trovati gli strumenti in cui hanno uno dei piedi del ponticello che buca la tavola e va sul fondo quindi come se fosse se ci fosse qui un piede più lungo esatto che andava però non funzionava alla fine la soluzione che hanno adottato è un piccolo cilindretto di abete per la stessa ragione che dicevamo perché l'abete è quello che trasmette in maniera più più veloce il suono che viene incastrato dall'esterno dietro il piede del ponticello dal lato delle corde acute quindi che fa da specchio la catena sotto le corde gravi c'è la catena che sostiene e trasmette tutta la tavola sotto il piede delle corde acute viene infilata l'anima che è soltanto incastrata che fa vibrare insieme la tavola al fondo dopodiché questa è la sua prima funzione di far vibrare insieme la tavola al fondo quindi che non vadano né a smorzarsi né ad andare in conflitto le vibrazioni l'altra sua funzione è quella di regolare l'emissione del suono diciamo che qua è più complicato però più l'anima è vicina o meglio l'anima può stare più vicina al piede del ponticello quindi in maniera in maniera che lo rende più rigido rispetto alla tavola o più lontana in maniera che il ponticello abbia più libertà di vibrare oppure più verso il centro dello strumento in questo modo significa per capirsi quello che dicevo prima è più vicina è alla tavola all'interno più rende rigido il ponticello più si distanzia più dà la possibilità al ponticello di vibrare più invece sarà verso il centro dello strumento più impedirà al fondo di vibrare liberamente più sarà verso l'esterno più lascerà il fondo di vibrare liberamente quando si mette l'anima bisogna trovare il punto un punto che sia quello giusto perché l'emissione del suono sia la migliore l'equilibrio tra le corde sia la migliore la magia sì non è magia però sì non è magia quindi abbiamo visto un sacco di legni Oliviero abbiamo già parlato dell'acero ma qui troviamo del pero poi troviamo del salice raccontaci un po' secondo la tua visione perché l'utilizzo di questi legni ma perché dal punto di vista simbolico vabbè parliamo subito del bosso innanzitutto che l'abbiamo già parlato in un'altra trasmissione il bosso è un legno che cresce lentissimamente abbiamo detto se potremmo dire non ho fretta di diventare grande il bosso è questo ed è un legno mercuriano sappiamo che mercurio fa da ponte trasmette le informazioni e forse non è neanche un caso che venga usato un tipo di legno così il pero anche a questa valenza mercuriana quando arriviamo al salice invece siamo legati alla luna quindi alle acque dovrebbe capire come mai vabbè l'acqua ha anche quello e lo scorrere quindi è uno scorrere come le note musicali forse non è un caso neanche questo io penso che poi la scelta dei legni soprattutto quando i violini erano costruiti con i legni locali penso che anche l'archetto una volta non si costruisse col pernambucco ma sicuramente con le essenze che erano le nostre essenze il salice secondo me è molto legato a questa terra parale sì sì e poi il salice è anche molto elastico quindi è molto facile da piegare facile da piegare sicura facilmente prende la forma facilmente e quindi non è un caso neanche questo che si utilizzino la costruzione interna in abete secondo me è più legata alla tradizione nordica che la nostra la nostra è punti salice tutte le rogge tutti i fossi sono contornate di salice ma il primo strumento che questa famosa viola che che ha legge nella storia chi lo sa in che legno sarà stato realizzato secondo te non lo so forse i primi strumenti erano gli silofoni che ha percussione sì purtroppo il mercato ha condizionato tantissimo anche la musicologia la storiografia nel senso che siamo legati a quello che il mercato ci ha portato in realtà appunto l'evoluzione dello strumento aveva un suo un suo percorso dopodiché soprattutto nell'ottocento ma già secondo me alla fine del settecento in poi hanno modificato gli strumenti perché corrispondessero di più a quello che il mercato voleva per cui abbiamo perso molte tracce perché tanti strumenti sono stati convertiti per fare un esempio qualche esempio dei pochissimi violoncelli che conosciamo di Gascura da Salò per esempio stiamo parlando di un motore che lavora alla fine del cinquecento quindi tra la metà e la fine del cinquecento i violoncelli che conosciamo molto probabilmente non sono violoncelli cioè nascono come viola da gamba che poi nel corso degli anni sono state modificate perché il mercato voleva quello a me è capitato una volta di vedere un bellissimo e siamo già oltre due secoli dopo un bellissimo strumento di Stradivari in cui però la tavola era stata modificata e il fondo sostituito proprio perché in origine era una viola da gamba per cui la tavola si vedeva bene per come erano state fatte le modifiche sulla tavola aveva le classiche spalle del disegno della viola da gamba che erano state modificate invece nella forma diciamo del violoncello e il fondo siccome in origine era piatto con la piega era stato tolto e sostituito con un fondo scavato ma già nel settecento perché il mercato non voleva più le viola da gamba non interessava più esatto da un lato o dall'altro voleva strumenti di nomi che erano già altisonanti e importanti da commerciare ma c'è una storia legata a Stradivari che ti piace raccontare? una storia o una fiava si racconta che Stradivari andasse di persona a scegliere i legni sonori quindi girasse per i boschi con un martelletto li batteva e quando trovava la bete sonoro non solo doveva essere sonoro ma la punta della bete doveva andare verso oriente non si sa bene se sia una fiava o un racconto però molto bello questo ma è molto probabile che andasse a scegliere anche a me è capitato di andare a paneveggio nel senso torno sull'argomento è come un cuoco che sceglie le materie prime è normale che per questo tipo di lavoro chi lavora voglia vedere le materie prime direttamente e scegliersele certo ma tu fai sempre questo parallelo tra il liutaio e il cuoco perché? perché per tante e il vino perché per tanti aspetti secondo me si assomigliano si assomigliano perché molto legate alla terra per cui non è un caso che io sia a Brescia e faccia questo tipo di modelli mentre se ho colleghi che lavorano a Napoli utilizzino modelli napoletani o in Francia malgrado utilizzino modelli italiani sia nello stile che nel gusto sono molto francesi adesso non scendiamo nei dettagli ma perché proprio le caratteristiche anche di gusto sono differenti e quindi principalmente perché è un mestiere legato alla terra così come il vignaiolo e il cuoco perché la scelta delle materie prime è fondamentale perché il risultato è fatto di colori sapori texture due nuanze che sono quelle del suono quelle del vino e quelle del cibo sono quelle e con questo ci salutiamo ma vi diamo appuntamento alla prossima puntata perché parleremo ancora di vernici e quindi di alchimia e parleremo ancora di strumenti musicali di legni che servono per realizzare gli strumenti musicali e doppiare le voci e andare in altri mondi appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti